Ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo, diamo insieme uno sguardo alla tendenza per i prossimi giorni. Iniziamo da Scala Europea che vedrà sempre questa zona di bassa pressione tra Spagna e Francia a tenere sotto scacco un po' tutto il Mediterraneo centro-occidentale con instabilità, specie alto Tirreno e nord-ovest. Meno coinvolto invece all'estremo sud abbiamo segnalato anzi quasi un debole campo anticiclonico con temperature miti si faranno sentire i venti dal nord Africa qui piena primavera valori oltre i 20 gradi. Andiamo però a vedere la mappa delle precipitazioni perché ci conferma questa zona di bassa pressione ancora ben attiva sulla parte occidentale del comparto europeo quindi Spagna e Francia e invierà ancora delle piogge guardate non solo nord-ovest ma a tratti anche nord-est e alcune zone tra Sardegna e regioni del centro-sud qui in maniera molto molto più occasionale. Infatti la prossima grafica ci va a vedere come le piogge saranno più intense nord-ovest Liguria e Catena Alpina moderate invece sulla Lombardia orientale e un po' tutto il nord-est per lo più deboli e sporadiche invece si tratterà di qualche acquazzone isolato temporale Sardegna e rimanenti zone del centro-sud anzi la parte ionica il basso adriatico saranno proprio fuori da questa fase perturbata ma i dettagli più precisi ovviamente sull'app di Trebi Meteo